Sicuramente non sono le coprelli dello scorso anno, ho avuto un po' di malessere, virus, bronchite e adesso sto recuperando al meglio e vediamo oggi come sarà la condizione. Oggi insomma è una giornata da lupi ancora una volta, questa Sarremo è sempre così, però l'anno scorso in qualche modo si è andato comunque bene con questo tempo. Sì, sarebbe il mio tempo oggi diciamo, perché con l'acqua e il freddo io mi diverto. Vediamo come sarà durante il percorso e ci steremo pronti ad ogni cosa climatica. L'arrivo in via Roma per te è meglio o è peggio? No, per me è anche meglio perché prima molti velocisti magari arrivano stanchi e mi può avvantaggiare un po'. Il tuo obiettivo comunque è una volata in un gruppo ristretto ma bisognerà seguire qualcuno in discesa. Ieri Gilbert diceva quello che in salita bisogna stare davanti perché bastano tre posizioni per perdere la gosta. Sì, sì, sicuramente. Se il collini dietro è già finita perché l'arrivo è subito sotto. Devo stare qui prima in salita e in discesa stare attenti che non vada via nessuno. Anzi che di squadra oggi, tu per finalizzare in caso, ma altre idee per la squadra oggi per comunque onorare un invito che è arrivato? Ma c'è anche Battaglini perché si vede l'anno scorso, ha scattato sul poggio e anche lui sta andando bene e bisogna tenere d'occhio anche lui.